Anziché andare a scuola, due quattordicenni fanesi rubano un motorino e tentano di camuffarlo per rivenderlo, ma dopo nemmeno un'ora dal furto vengono individuati e denunciati dagli uomini del commissariato di polizia di Fano. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri attorno alle 10.30. I due minorenni, invece di frequentare le lezioni dell'istituto professionale al quale sono iscritti, hanno scelto uno scooter di piccola cilindrata parcheggiato accanto a porta maggiore nei pressi del Pincio e lo hanno rubato dopo aver manomesso il bloccasterzo. Immediata la denuncia della sua proprietaria, le forze di polizia, che si sono immediatamente attivate. Volanti e squadra investigativa del commissariato di Fano, coordinate a dirigente Stefano Seretti, sono arrivati in poco tempo ad individuare i responsabili in base alle approfondite conoscenze della zona maturate in diversi servizi e controlli e che hanno avuto anche conferma delle immagini delle telecamere di videosorveglianza proprio di recente installazione nell'area Pincio, che ritraevano il motorino rubato ed un altro allontanarsi appaiati verso la Flaminia, in direzione Bellocchi. Individuarli e bussare alla porta del loro garage è stata cosa di pochi minuti, nemmeno un'ora dopo sono stati scoperti con le mani sporche di vernice spray, con la quale stavano ridipingendo il motorino rubato e smontando alcune sue parti per renderlo irriconoscibile. Lo scooter, anche se un po' malconcio, è stato subito restituito alla legittima proprietaria e i due minorenni denunciati alla procura del Tribunale dei Minori di Ancona per furto aggravato e danneggiamento.